ragazzi adesso ora, qua lo mando io, brutti b**** un altro mid intanto 70 li ho fatto ops, un partidato è 70, va a destra 70 si li ho fatto di bandolone, collo, collo questa è una mappa che mi sta più sulle p***e in assoluto allora, io e il pompa ragazzi passi qua barca 1, ce l'abbiamo però stanno pure qua, scalo io arrivano b b b b b b sono rimasti in due sono ancora una freddo cypher, cypher e one raga che fa il giro questo? 30 secondi rimasti buona proposta perchè sta come una cosa gialla che lanci per terra il drone eeeh, si va, se ci sono nemici esplode ti one shot la zia però è facile la distruggere devo dire che la E di Raze è davvero bilanciata ragazzi steps? basta, quel po' agire è il suo si 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 è mio, l'ho fatto giusto per provare un po' di cose barca di cose si scalo barca io scalo barca ce n'è una mid ci sono pure io mid ragazzi dai fuora qua lo mando io brutti un altro mid intanto 70 l'ho fatto ops a destra 70 si l'ho fatto di badrone collo collo ah che bello ragazzi possiamo essere su fortnite double pump dico provo l'avamo smocca lancio una smocca bella visione che ho bloccato da un altro oppure secondo me è ancora B mi push al mid scalo io giro B grazie tranquilli non so io nemico nemico no scusate allora raya io sto da solo in A vabbè ho capito che mi fidata però diciamo che da solo sound ragazzi grazie faccio la ult ho deciso c'era uno cookie si raga raga serve una cura cookie basta anche vado ad aside non so se fanno i fake forza di fake eh però sono saliti in due 72 vedo la spike bello mirino ecco qua vedi ok sai ti è pulito 30 secondi rimasti cerco dietro non mi fido cerco dietro volevate bollocco volevano scusatemi ragazzi voglio fare una pazzia io fu che non saperò se farlo ho entrare di ulti ho entrare di ulti ho l'ulti da 3 round oh sì fatto buonasera ragazzi credo ssfk info insta report parca sta c***a ma spalla anche io più veloce qua dentro oh cristo bravi buonasera ragazzi vabbè oh io ho un sorriso non mi interessa tanti passi che bel muro tu hai scalato sei sicuro hanno sboccato mid rompono non mi scappi mi ultano sono scalati sono scalati esplosivi lanciati basta scherzare ora muori mi ha già ha fatto l'ulti fenix bravo me ne ha fatto stai da lo so stai da lo so stai da io non ho nessuno tiriti ventano sicuro in giro per secondigliano aspetta aspetta ultimo giocatore rimasto ci hanno avanti lo score no che me ne fregate lo score mi compro ragazzi mi compro ho troppi soldi chiedete serve attrezzatura mi serve grazie no barca aspetta ah no tu hai comprato l'armor si va bene dai tieni anche se hai più soldi di me adesso una mia sta bene questa cosa che di cosa non c'è l'arma non c'è l'arma cazzo ma ragazzi faccio una kill di molotov e vado di final tranquilli sbocano mid ok uno qua da me barca uno qua da me morto 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 hai la bomba martina la bamba no preparate che la bocca vinto una cura curami curami no non posso ho curato lui ho curato Kuki mid ma a modo Kuki Scyther è ferito Scyther tra quanto la cura 20 bravo Kuki arriva arriva è entrato morto appena poi cura 4 3 2 mi serve l'arma del tizio raga bravissimo bravissimo mamma mia Kuki oh l'arma ok io ho cambiato per tutte sono rimasto senza armi ma ti ammazzo no dormite male oggi beh colpa mi è passato altre altre tre ruota un altro barcacera nascosto ragazzi mi sa che questa è via prattante la spike è qua che bello ok con calma guarda come sono gentile grazie ragazzi no raga c'era uno dentro la smoke barca mannaggiotto che te ne vai sempre fai cagare fai cagare ragazzi mi serve un'altra smoke mi serve vado anche io oh mio dio ho un po' paura ma è A o no? no no una sparata B due due meno 90 meno 50 rampe morto ultima pronta buono ho rotato da voi un altro da barco te lo fai barco basta scherzare ora muori quello è meno 50 30 secondi rimasti si verrà curato oh mio dio manca un solo nemico laser smocco ci buttiamo occhio dietro raga smocco qua ma è B non ci credo barca corri corri danno non ce la fai non ce la fai barca fermati no è possibile barca sta già sfodendo ah è possibile non ci posso io raga ho stato pure l'ultima in età ultima round se avete le ultime fatene forse ora v'entrano devi moccare smocca me era smocca timide parco rota rota ma è stato solo uno aio no no due almeno avvantando devi restare dove qualcuno adesso vede esci dalla finestra ultimo giocatore rimasto appena esci dalla finestra a destra la x sulla mappa poi devi vedere dai un po' si tappiamo per Andrea posso smoccare window o quella di sopra ci dobbiamo aprire solo dal long entriamo ok ok allora facciamo questo andiamo a vai che la bomba facciamo tirare prima le loro cose magari ma ti può se la teganna sova potrà tirare la freccia qua mettiamoci facciamo la proprio non rompiamola se no sappiamo che stanno qua levatevi levatevi proprio appunto guarda lei collo proprio lasciamo a finire forse push tanti con l'arma si 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 ucciso curami curami uno sopra uno sopra vai con le smoke vai con le smoke dobbiamo andare non troviamo site uno window coprite tutti i site chiudo window non posso non posso non pusciate prendete solo pick bravo cookie window window benissimo lasso ok ora cookie ma sto sparando lui da even si sto sparando da even al muro sparare a te lì giù no non sta a me sparare a te ok si inizia a cookie si si sta qua ma è morto ok ah raga passate a essere coordinati cavolo ti ho una tarfolina magari fanno il giro mhm passi passi fuori da qui mi curi mi curi no volevo volevo le hits no passate davanti fuori da qua a sinistra no da sotto verso si è murato dietro murato si povero ragazzi gli ho fatto 70 stavo per tiltare vi giuro questo con match se ne fatti due io veramente senza parole vabbè va bene ragazzi ormai va bene vedi che flashano flashano subito attenti no solo prima perchè dovevano buttare il round avete il muro tu ce l'hai qualcuno ce l'ha si prende qua dire quando si diede ci siamo totti totti o che o one shot una tutta sinistra una tutta sinistra e una a destra per passare venti secondi da bussando ti chiamo andiamo andiamo ragazzi andiamo morto uno vabbè chiudere site vittato base sua uno l'ha arrestato una window non è sceso 76 70 70 70 guarda non ha ammazzato sage solo perché era col bulldoke ho cominciato ad avere il vandal mi sono fermata con il testo e non ho più sparato vaffan brodo ha murato secondo me ci sta sopra cura 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 parca ma siamo bloccati abbiamo poco tempo abbiamo 35 secondi vogliamo girare a ultro per b questi ci possono avere 30 secondi rimasto e non entra la parca e vabbè stavo entrando io stavo morendo morto dietro entratato tra e la testa vado a plantare dove la smoke copri solo 10 secondi rimasti e la ultimi facciamo gioco per il tempo partito si si l'ho visto e sopra e sopra non piccola no me ne faccio un ca**o no no esplosivi lanciati esplanta esplanta bravissimo bravi bel round e vai avanzato fai pensare che stiamo di là ok spari magari al muro che mette se mette il muro uno sta spara spara fai passi fai passi cura 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 cuokie cura cuokie ti resta la barca se ce l'hai non ce l'ho andate non ce l'ho no taglia Alanto, coprite tutti i site Dietro, dai dietro uno, morto Ok, chill, chillate, chillate Un window che voleva piccare Bravissimo, pochi Sali qua e previ il cuore, lì Eh, dici Ho afferato la bomba, bravissimi, raga Volevo fare dare la bomba nel buco Ho decentrato Drone Ciao E ma Ho saltato, ho saltato all'inferno Ok, nice Giriamo il shift così Da sottopassaggio Mi metto pure la smoke qua su site Buona, buona Entra, entra, entra Come entro, il muro è finito, mi so No, 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 aspetta lì Io ho ulto, ulto in BDB Ma... Siamo qua Qua Quinto Non c'è nessuno qua, andiamo Non c'è nessuno qua, andiamo Non c'è nessuno, non c'è nessuno Quanto muro Entra la tentata Sì, è finito È vinta la partita, ho dovuto contare Muro qua, muro qua, muro qua Arrivata lì, arriva da lì Rompe, rompe Manca un solo nemico Compro dietro io, raga Compro dietro io, bufino Ma sti copri io Ole, bravi, raga Vittoria degli attaccati Oh, questo è un bel game Sì, questo Questo è un bel game Bel game, bel game, GG GG Abbiamo giocato di scuola Per forza, anche perché dopo un po' stavano cammeccando Quindi, o vuoi non vuoi No, no, dico meglio rispetto Sì, no, decisamente A me l'era combattuta sta partita Grazie a tutti Grazie a tutti